Domani alle 20.45 allo Stadio Adriatico il Pescara affronterà il Cesena per quello che è il big match del girone, anche se il Cesena si presenterà allo Stadio Adriatico con 12 punti di vantaggio. Il Pescara ha una partita in meno rispetto alla formazione di Toscano, non avendo giocato domenica scorsa a Pontedera, ma il vantaggio dei Romagnoli è davvero molto molto importante. Sarà una partita difficilissima, Zeman non avrà a disposizione soltanto il secondo portiere Ciocce e le prese con un problema alla caviglia, per il resto tutti a disposizione. Parole importanti quelle del tecnico Boemo in conferenza, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, ha detto finora solo Cuppone dei nostri attaccanti centrali ha attaccato l'area in verticale come piace a me. Parole davvero molto interessanti, quelle dette da Zeman che poi ha ricordato Vincenzo Zucchini, persona eccezionale. Con le immagini di Diego Martelli ci andiamo ad ascoltare i passaggi salienti della conferenza stampa del tecnico Zeman. Per la partita con il Cesena, intanto come sta la squadra, se tutti gli effettivi sono a disposizione, se c'è qualche criticità, come sono andate questi giorni di allenamento senza la partita di Pontedera? Grazie. A parte Ciocci che ha ancora problemi alla caviglia, sono tutte a disposizione. Sul Cesena, perché lei ha detto che è la squadra più forte del campionato, è preoccupato che per caratteristiche è una squadra che può mettere in evidenza le lacune del Pescara, vale a dire difendersi bene e poi colpire in ripartenza. La Re Canatese ha fatto male il Rimini al Pescara, il Rimini ci ha messo un po' in difficoltà. Con i suoi uomini il Cesena può evidenziare ancora di più alcune lacune e se Di Pasquale e Franchini, che le aveva detto la scorsa settimana, ancora non li vedo pronti, si hanno fatto dei passi avanti. Grazie. Quello discorso di loro sono bravi, ci sono giocatori bravi, l'esperienza anche tecnicamente bravi e quindi il problema dietro sicuramente si pone. Se hanno fatto più di 30 gol in campionato finora, vuol dire che hanno funzionato con tutti. Da parte nostra speriamo che riusciamo a chiudere quello che fanno. Penso che abbiamo abbastanza informazioni sul loro gioco. Poi applicarli in campo è una roba da pensare. Ma io dall'inizio del campionato dico che gli attaccanti mi servono per attaccare. Gli esterni, finora tutti e quattro, mi vanno sempre fuori a farsela dare nella nostra metà a campo per poi portarla e cercare di fare gol. Ma dalla nostra metà a campo non lo faranno mai, portandola a palla. Il cupone finora è stato l'unico che va in verticale dentro. Poi magari sbaglia davanti alla porta, ma ha creato specialmente all'inizio del campionato problemi agli avversari. Voglio che si gioca più verticale e che fanno attaccanti e non centrocampisti o costruttori di gioco. Non lo hanno nelle caratteristiche, ha detto, quello che chiede lei, quindi la verticalizzazione o andare ad attaccare l'area di rigore. E come mai sono stati scelti allora questi giocatori per fare il suo sistema di gioco? Perché sono bravi tecnicamente. L'ultima la faccio sulla difesa. Pellacani è rientrato in campo sia in Coppa Italia sia in campionato contro i Rimini. Per caratteristiche forse il difensore che va a fare la pressione più alta, che diciamo piace molto a lei, è pronto al 100% ora per giocare Pellacani? Pellacani è pronto. Nelle gerarchie com'è rispetto a Brosco? Ce lo può dire? Eh, come sta. Sta non alla pari. Oggi sono dieci anni che è scomparso Vincenzo Turchini, il capitano, la bandiera del Pescara. Il suo ricordo con Vincenzo? Ricordo, posso parlare solo bene, nel senso che siamo stati insieme in quel campionato vinto e lui era utile, si è messo sempre a disposizione per la squadra, per lo staff. Una persona eccezionale.